Allora, come va? Bene, benvenuto in un'altra puntata di Superposizioni. La puntata di oggi... Eeeh, sto registrando io, quindi magari può darsi che ci sia anche uno che disturba, va bene. La puntata di oggi è, l'età conta o non conta? L'età non conta. Prego! L'età non conta! Vai! Stretches! 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 Voleggia la lesbia! Via! La gira, perché? Non viena la gira di nuovo. Perché la gira? C'è proprio ossigeno a girare così. Ma perché la gira? Ma perché la turnia? Saluto Massimo. Cali! Cali! Che? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Fa il footing, fa lo jogging, insomma, e che si dice? Ma cosa stai dicendo? Ma il footing si corre, ma non tu sai che di che tu fai. Ma che si dice? Fa il jogging. Fa la ginnastia da vecchio. La ginnastia dolce, la dedecchi in palestra. E' da vecchio. Comunque ascolta, ascolta. Ascolta, è arrivata la sua deposizione. Che la dici? Che la dici? L'età conta. Nel campo della quantistica una cosa può essere contemporaneamente vera e non vera. Ma nella realtà è meglio prendere una posizione. Riusciranno i nostri esperti a risolvere il quesito che la scienza gli pone? Con diletta oculisti. Massimiliano Galligani. Superposizioni. Un esperimento super serio di in quanto teatro. No, l'età non conta niente. No, no, l'età conta. Ma come l'età non conta niente? Come l'età non conta? C'è anche l'età conta, scusami. Ma perché la ginnastia? La vedi la ginnastia? Io sono bella da andare a messa sopra un tornio. Scusami, ma perché stai facendo la ginnastia della lesbola? Perché voglio migliorare degli altri. Ma Galligli, scusami. Sono molto meglio di ginnastia. Sono molto migliorato. Ma sono piccoloso, madonna. Ma sono piccolosa. Ma che te mi fa paura? Che io, Galligli, non mi fai mettere tempo ad andare a fare crossfit. Io sono giovane, non so mi amare come te. Ma che sicuro? Se tu vai in discoteca, no? Sì. Alla tua età, 60 anni, entri e ci sono tutti. 60 anni? A che 60 anni? Noi, tu siamo famoliti. Sono quasi 30 anni. Sì, sono in gamba. Sono 48 anni. Allora, se tu entri te, ascoltami, e c'è tutte le ragazzine di 20 anni, ti invitano per un vecchio baboso che fa la ricerca della ginnastia. Ma che vecchio baboso? Ma che stile? Ma come stile? Guarda me sull'ongilino ormai. Guarda me sull'ongilino ti dà. Questa cosa ti dà? Tu sei solo l'ongilino. Non conta. Tu te te ne le fa' conta? Non conta nulla. Io posso fare robe di tutti i giovani, guarda, il che fa lei lo so fare anch'io, i giovani che so fanno giovani lo posso fare anch'io, lo fa lei, lo farò anch'io. Ma la regola ha 90 anni. Ma 90 anni in chi è? Guarda quelle giovani. La vecchia di 90 anni. Non è vecchia le giovani. Ti faccio un altro esempio. Se tu devi guidare la macchina, finché non c'è a 18 anni, la macchina non la può guidare. E che scelta se tu può guidare la macchina? Perché ti dà in conto a 16 anni e non la puoi guidare la macchina? All'età tua, all'età tua, ti potrai avere una patente e quindi hai detto che c'è la macchina. Ma che scelta? Ma cosa scelta? Una cosa della ca... La macchina? Te tu ce la 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 la. Ma te tu sei poi l'intera? Te ce l'ho 25 di una macchina. Ma non ce l'ho la 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 la. E comunque, escivi. Perché la puoi guidare l'esercito. Escivi. Vuoi un altro esempio? Ti faccio un altro esempio. Si va in museo, io entro gratis. No, tu hai sottocchiato, tu entri gratis. Perché sei un vecchio e io... Scusi i gammi di vecchio! No, tu sei pensionato! Pensionato? Pensionato? Perché pensionato? Poi il tuo amore e quindi lo fa l'entrare gratuito. Ma te tu sei di fuori un terazzo, veramente? Sì, è bene, è così. No, no. Ma non conta. Non conta nulla, non conta nulla. Perché io posso me le palle di fuoco. Dopo di lei... Guarda che lei la sta sistemando. Ma l'ho finito. Sto facendo questo. Ma non la simile nemmeno. Sei così vecchio. Guarda su, piano e su. Guardo i video di... No, devi guardare su e poi la va giù. Al Kogan! Ma... E Andre De Gea dopo guardo i video. E poi dopo guardo i video qualcosa più grosso di Schwarzenegger. Ma Schwarzenegger fa l'amministratore dell'aniforme. L'amministratore? Sì, sì. E' amministratore dell'aniforme. E' amministratore delegato della Hanford. Fiat Chrysler California. L'amministratore delegato. Sì, sì, sì. Insomma, non lo fa più lui. Non lo fa più, però... Lui, guarda, è stato anche mister con mezzo. Mi ha fatto tutto una tra... Mister... Mia. E di di là. La fionda di... La fionda di là. No, attenti. Non ti si può vedere. Dai, no, no, no. Ti lascio fare la ginnata di là. No, no, no. Ascoltami, però. Mi pare che il terfoso perché non lo ascolti mai. Ti sto dicendo mi dà conta, punto. Io ti dico sei un vecchio. Sei un vecchio. Non mi toccare, no. Non mi toccare, perché non lo sa. Tutto con il fuso. Se guarda la leggo io lo sanno. Io vado a fare il crossfit dove ci sono i manzi e vado a prendermi un bel toy boy. Ma bella, bella. Buon figlio. Le fanno un conto. Ciao bello. Le fanno un conto. Le fanno un conto. Ui uia. Ui uia. I poten. Mi sei più poten. Ben garbata questa puntata. Noi siamo stati qui fino a voi aspettati. Io sarei dovuto essere da solo però qui come le mosche, capito? Ti si attaccano. Io vi ringrazio e vi saluto con la... con l'embuto. con l'embuto. Noi. 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 Grazie a tutti.